Sono 25 e provengono da 18 paesi diversi gli studenti selezionati per il primo master al mondo dedicato alla formazione dei futuri manager del paesaggio agrario della FAO. Il master è stato presentato in una tavola rotonda internazionale nella sede della presidenza della regione toscana che supporta il corso ed è dedicato ai sistemi GIS, Global Important Agricultural Heritage System, il programma mondiale della FAO di tutela dei sistemi agricoli sostenibili ritenuti patrimonio dell'umanità. Si creeranno dei manager del paesaggio rurale e quindi già il tema del paesaggio e il tema del paesaggio rurale che sono elementi importantissimi sia dell'identità della nostra regione sia delle politiche che la regione ha portato avanti negli anni. Il corso di sei mesi fa parte di un più ampio progetto finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione per l'individuazione di nuovi siti GIS e per l'alta formazione sui temi del paesaggio e dei sistemi agricoli coordinato dal Cult Lab con sede nella Scuola di Agraria dell'Università di Firenze. I corsi si svolgeranno al PIN di Prato. Stiamo cercando di costruire qui a Firenze un centro studi di livello internazionale che si occupa di un tema oggi in crescita e sostenuto dalle Nazioni Unite, dal nostro governo e anche dalla regione toscana e che si basa su competenze espresse dalla nostra università, in particolare la Scuola di Agraria di Firenze. Al programma GIS, che conta 57 siti nel mondo, possono accedere i siti italiani iscritti nel registro nazionale del paesaggio, tre dei quali sono toscani.